Ci occupiamo anche di motori con un grande appuntamento che si è tenuto nei giorni scorsi a Capodacqua di Foligno. La prima prova stagionale, visto il fermo totale finora dell'attività, valevole per il Trofeo Umbria Marche 2020 di Enduro Wisp, organizzato dal Motoclub Foligno Enduro Team. Circa 250 motociclisti provenienti da ogni parte d'Italia, 4 prove speciali e 4 giri di trasferimento di 36 km, su un tracciato che ha esaltato le capacità dei piloti.